Ciao a tutti, Whatsapp ha previsto un nuovo aggiornamento con l'introduzione di novità sensazionali che potrebbero variare un attimino anche il panorama e portare molti utenti di Skype su Whatsapp. Quali sono queste novità? Intanto introdurre anche per Android la possibilità di mandare messaggi vocali senza dover tenere premuto il tastino. Questa era una limitazione fondamentalmente dei messaggi vocali iOS e riuscite attraverso una modifica software a eliminare questo problema e probabilmente anche a presto con questa nuova realisa anche Android riuscirà a eliminare questa situazione, quindi per i dispositivi Android. Ma la vera novità è la possibilità che ci sarà di fare videochiamate di gruppo, come è possibile in alcuni casi fare su Skype o tramite l'applicazione Google Hangout. Questo ovviamente renderà tutto più semplice, per cui si potranno fare anche videoconferenze di gruppo, verrà, sospellerà anche, quindi si andrà anche da un certo punto di vista a contrastare, quindi portare su Whatsapp utenti di Skype e anche di Google Plus tramite la piattaforma Hangout. Quindi aspettiamo questa nuova release, questo nuovo Whatsapp, sempre con funzionalità che consentono sempre di interagire nel modo migliore, di avere la dominanza, diciamo, sul sistema di comunicazione. Un'altra cosa che Zuckerberg, comprando Whatsapp, ha dimostrato di avere una grande intuizione. Nonostante i problemi di privacy avuta su Facebook, probabilmente dovrà anche vedere su Whatsapp tenere sotto controllo tutto il tema della privacy. Bene, per questo video è tutto. Vi ricordo di partecipare questo venerdì 20 aprile a Torino a un mio seminario Fai volare l'autostima e i seduci, come riuscire a migliorare la propria autostima e seduare gli altri. Il riferimento è il 333 15 11 703 e comunque è venerdì 20 aprile a Torino alle 20.45, il corso 3013 per essere l'educatore della Provvidenza a Torino appunto. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale perché se raggiungiamo gli 80.000 iscritti entro il primo di giugno 2018 ci sarà una grossa sorpresa, un corso per tutti. Quindi iscriviti al canale, fai iscrivere i tuoi amici. Ciao!